Per fortuna devo dire che Rimini è sempre stata una città molto accogliente, molto aperta, anche molto intelligente, con una presa di coscienza molto civile e quindi non reazionaria come magari è avvenuto o avviene in altre città. Purtroppo è un dramma che ci cambia, ci cambia tutti, quindi cambia anche il modo di vederci a vicenda. Non dobbiamo cedere a quell'ondata di odio che viene seminata anche magari attraverso una campagna sui social eccetera. Rimini devo dire che finora ha reagito con molto senso civico anche alla manifestazione che c'è stata a sabato, che ha unito diverse persone provenienti di origini diverse, ha dato un messaggio ben preciso. Io spero che ciò che è successo non cambi la Rimini che in questi anni è stata costruita con un dialogo importante. La reazione della comunità musulmana, quella riminese ma anche quella nazionale, è sempre composta di due sentimenti. Il primo è quello più immediato di sgomento, di shock per ciò che è successo, il dramma di quanto è avvenuto. Il secondo è quel pensiero che purtroppo dobbiamo fare di ciò che comporterà sulla vita quotidiana dei musulmani, sulla comunità islamica riminese, su come vivere il giorno dopo, anche col vicino di casa, come sarà il suo sguardo, se ci sarà il suo saluto eccetera. E di conseguenza anche cosa fare per poter ancora una volta dare quel messaggio, cercare di riprendersi il dialogo e la fiducia reciproca che è stata costruita. Sui social eccetera i messaggi non sono mancati, bisogna dire che lo erano anche prima, è una campagna e chi semina l'odio si è impegnato tantissimo in quest'anno a cercare di diffondere quel sentimento basato anche sull'emergenza dei profughi eccetera. Quella di venerdì è stata purtroppo un'ennesima occasione per lucrare, per fare anche dello sciacallaggio e alcuni si sono lasciati trascinare. Io spero che con i giorni o con le settimane o con i mesi si possa riprendere la tranquillità dello dialogo civile. La comunità islamica sta organizzando un dibattito pubblico che probabilmente si terrà domenica prossima per discutere di quanto è avvenuto e anche per presentare quello che è il volto dell'islam che accomuna queste persone che tanti rieminesi conoscono, con cui tanti rieminesi lavorano e si interfacciano quotidianamente.